In questo video vediamo i 5 migliori canestri da basket in vendita online. Prima di iniziare con il video ti ricordo che trovi tutti i link ad Amazon sotto al video in descrizione o nel primo commento. Iniziamo! Numero 5. Al quinto posto troviamo Oncom. Questo cerchio per pallacanestro è realizzato con materiali di ottima qualità, molto resistente, è ideale per scuole, centri sportivi e giardini. È realizzato in metallo e rivestito in vernice rossa. Si può utilizzare a lungo nel tempo. Si adatta alla maggior parte dei tabelloni di dimensioni standard sui campi da basket pubblici all'aperto. Il canestro è facile da appendere alla porta, al muro e al tabellone. Il prezzo è di 41 euro. Numero 4. Al quarto posto troviamo Sportana. Questo canestro con pratiche ruote di trasporto potrà essere collocato sempre dove vuoi tu e spostato all'occorrenza. Il piede d'appoggio potrà essere appesantito ulteriormente, riempiendolo di 30 kg di sabbia oppure 25 kg di acqua. L'altezza del cesto da pallacanestro può essere facilmente regolata da un minimo di 179 cm ad un massimo di 209 cm. È adatto sia a giocatori ambiziosi, sia ai giocatori occasionali, sia per l'allenamento, che per il miglioramento delle skill e delle capacità personali. Il prezzo è di 77 euro. Prima di passare al prodotto numero 3 iscriviti a prezzo e recensioni per non perdere le migliori offerte del web in anteprima. Numero 3. Al terzo posto troviamo Iaetec. Questo canestro presenta sei paia di fori per la regolazione dell'altezza. La colonna telescopica può essere facilmente regolata da 159 cm a 214 cm, con incrementi di ogni 11 cm. La colonna tonda è in metallo antiruggine, con un robusto tabellone e base in perete in nylon. Questo sistema per pallacanestro è fatto in materiali di qualità per garantire leggerezza e buona durata. Il canestro solo pesa 8 kg e può essere portato ovunque. La base del canestro può essere riempita con acqua o sabbia per garantire una buona stabilità e sicurezza per ogni colpo. Dotato di due grandi ruote da 10 cm, per un movimento senza sforzo anche quando la base è appesantita dall'imbottitura. È richiesto un assemblaggio semplice per questo canestro da basket. Con il manuale utente illustrato e gli strumenti allegati, è possibile configurarlo rapidamente e senza difficoltà. Il prezzo qui è di 79 euro. Numero 2. Al secondo posto troviamo Opsani. Questo canestro da basket regolabile è ideale per far giocare a pallacanestro bambini e adulti. Il canestro è regolabile in altezza da 155 cm a 210 cm, per lasciare divertire giocatori di diverse età. La base in plastica può essere riempita con di acqua o sabbia, per mantenere la massima stabilità durante il gioco. Le ruote integrate alla base permettono di spostare facilmente il canestro dopo aver svuotato la base. Inoltre la sua struttura è in solido acciaio rivestito a polvere e antiruggine, per resistere all'aperto. Il prezzo è di 99 euro. Numero 1. Al primo posto troviamo Prosport. Imposta l'altezza in base al livello delle tue partite di basket. Con un sistema di regolazione telescopico facile da usare, puoi passare l'altezza del canestro da un'altezza adatta ai bambini a un'altezza ufficiale di 3,5 metri. Questo canestro con base è dotato di un bordo pesante in stile classico e di una rete in nylon per tutte le stagioni. Il tabellone è un policarbonato infrangibile che ti dà l'aspetto e il gioco del vetro in stile professionale. È supportato da una robusta base portatile. Riempi la base con sabbia o acqua per la stabilità e gioca. Quando non serve, svuota la base e sposta il canestro con un supporto alato. Il prezzo è di 299 euro. E tu quale comprerai? Faccelo sapere con un commento. Trovi tutti i link ad Amazon sotto al video. Lo staff di Prezzo e Recensioni ti ringrazia per la visione.